Matteo Renzi, quando c'è stata la richiesta di rinvio a giudizio da parte dell'accusa al gruppo il 4 aprile, si saprà a che fine fa questa richiesta che ha denunciato i PM che l'avevano indagato. In logica questo argomento si chiama argomento ma dominem, quando invece di confutare un'affermazione si attacca chi la fa, per esempio se uno dice piove l'altro invece di dire no guarda non piove gli dice comunista o fascista o pedofilo o quelle cose lì, questo è l'argomento ma dominem, che è quello che usa Renzi, perché la risposta a una richiesta di rinvio a giudizio non può essere il pubblico ministero un cretino oppure un molestatore sessuale, deve essere, è sbagliata, sono innocente, nei paesi civili ci si comporta così. Lo scontro tra politica e magistratura dà sempre il tratto alla nostra vita politica, Marco? Ma io contesto che ci sia uno scontro tra politica e magistratura, ci sono dei politici che non vengono indagati perché non ci sono notizie di reato su di loro, ce ne sono altri che vengono indagati perché ci sono notizie di reato su di loro e come quelli della Prima Repubblica cercano di non farsi indagare, di non farsi processare o di buttarla in cacciara tirando in ballo i magistrati perché non si parli delle accuse che li riguardano, ma non è uno scontro, sono dei processi, se prendono uno per stupro non è che c'è uno scontro fra gli stupratori e i magistrati, i magistrati sono pagati per quello per fare le indagini. Non c'è Senaldi scontro di Travaglio, la differenza è che i giudici stanno perdendo credito, secondo Senaldi. Ma i giudici non devono avere nessun credito, nessuna popolarità, fu un'anomalia quella del 92, la gente si sentì liberata dai giudici, da una classe politica che taglieggiava i cittadini con una corruzione che si respirava anche nell'aria in un momento in cui si erano mangiati i soldi, per cui non c'era nemmeno più il contraccambio che di solito alle tangenti corrispondeva con opere pubbliche, si erano mangiati tutto, non c'era più niente, non c'erano più nemmeno i soldi per gli stipendi pubblici, leggi finanziarie da 90 mila miliardi di lire di sole tasse come quella di Giuliano Amato, prelevati i 6 per mille dai nostri conti, quello era il conto finale del sistema di tangente. La gente si sentì liberata e vide che la magistratura finalmente riusciva ad avverare l'articolo 3 della Costituzione, tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge Adesso cosa è successo? È uscita su tutti i giornali la lettera del padre di Renzi al figlio in cui si esprimono giudizi molto duri su Lotti, Boschi e Carrai e sentite il cartello numero 10. Carrai non si deve mai più far vedere da me, uomo falso. A fronte dell'ectoplasma e della banda Bassotti, Bianchi, Bonifazi e Boschi, che hanno davvero lucrato senza ritegno dalla posizione di accoliti tuoi, io sono stato quello che è passato per ladro, prendendolo nel c***o. È dal tempo della provincia che non sono stato messo in condizione di fare un ragionamento completo con te. In questi anni ho avuto la netta percezione, anzi la certezza, di essere considerato un ostacolo e comunque un fastidio. Devo nascondermi senza aver fatto niente di male. Ora tu hai l'immunità, non esiste più il rischio che tramite me arrivino a te. Io ho letto che questa sarebbe la vendetta della procura di Firenze contro Renzi che ha denunciato i tre PM che hanno chiesto il suo rinvio a giudizio. Purtroppo non tornano le date. Il giudice ha ammesso quella lettera nel processo, non a Renzi per Open, ma nel processo ai genitori di Renzi per la bancarotta di credo tre società, il 18 gennaio. La richiesta di rinvio a giudizio per Renzi e l'annuncio che fa Renzi, denuncerò i tre PM alla procura di Genova, è di un mese dopo. Quindi non c'entra assolutamente niente. Questo è un fatto che è avvenuto prima e quella lettera non interessa il giudice per le parti che hai riferito tu che sono quelle giornalisticamente perché politicamente più succose, ma per tutta altre parti in cui parla diffusamente delle sue società, di un imprenditore che ha preso il posto suo in una società che poi è finita in bancarotta, che è finita a Genova, eccetera. C'è tutta una parte che interessa il giudice nel processo sulle società fallite dei coniugi Renzi. Allora quella parte poteva finire in omissis. Invece perché finisce in modo che una trasmissione televisiva può pubblicare il risentimento di un padre nei confronti di un figlio? Ti immagini se un giudice si mette a tagliuzzare una lettera? Ovviamente gli avvocati si incazzano perché la vogliono leggere tutta. Perché? Perché è ovvio. Se la tagliuzzi è evidente che potresti togliere delle cose che fanno comodo alla difesa e non fanno comodo all'accusa. Quando riporti un documento, il documento lo depositi integrale. Poi il giudice se ne servirà a seconda delle sue valutazioni. Travaglio sa benissimo che nei documenti giudiziari esistono gli omissis. No, esistono le intercettazioni quando nelle intercettazioni si parla di questioni coperte dalla privacy. Quando fai un processo e depositi un documento non è come quando depositi un'intercettazione. Le intercettazioni intercettano intere giornate di conversazioni e quindi giustamente il magistrato espunge quelle che riguardano questioni private o questioni che non c'entrano niente. Ma quando tu depositi una lettera non la puoi tagliuzzare altrimenti gli avvocati potrebbero sospettare che hai tagliuzzato delle cose che a te pubblico ministero o a te giudice non fanno comodo e magari fanno comodo alla difesa. Come ha detto anche lo stesso Travaglio, non interessano l'inchiesta. Non si capisce perché devono essere... Travaglio, poi vi faccio vedere che... Ma l'ho già spiegato. Se in quella lettera si fosse parlato soltanto dei dissidi privati, quella lettera non sarebbe stata depositata e il giudice non l'avrebbe accolta negli atti del suo processo. Il giudice l'ha accolta agli atti perché ci sono gran parte di quella lettera che invece riguarda molto le vicende societarie per le quali il padre insieme alla moglie è sotto processo. Si tratta dell'accusa di tre bancarotte di tre loro società e lì si parla di rapporti societari. Ce l'ha con Carrai perché Carrai non gli ha presentato l'amministratore di poste. Parla del fatto che ha perso tre milioni di fatturato perché gli amici di Rezzi non lo hanno favorito, non lo hanno assecondato. Ci sono un sacco di cose che il giudice, non i pubblici ministeri, hanno ritenuto utili per quel processo. Perché parla di vicende societarie. Dopodiché i giornalisti non hanno avuto quelle cose sotto banco da un PM, sono depositate in un processo pubblico. I processi sono pubblici in Italia, tutti. Quelli a noi privati cittadini e quelli ai politici. Una persona che ha potere e può condizionare le vite altrui deve agire secondo me con rispetto degli indagati, soprattutto con rispetto anche dei non indagati, ancora di più, con maggiore accortezza. Deve inguattare le prove che gli servono. A me sembra novella 2000, non mi sembra un atto di un giudice, francamente. Questo non è dignitoso. Per la magistratura è prima che per gli indagati. Perché se io non distingo un atto giuridico da novella 2000... Allora vi do delle... Non mi ha appena spiegato che si parla di vicende societarie, non di vicende di corna o di vicende di cuore. Quanto riguarda il caso Open, dopo la richiesta dei PM di rinvio a giudizio, cartello 14, cosa fa Renzi? Non solo denuncia i procuratori, ma anche va in televisione e in qualche minusura dice, ma possiamo credere a gente così? A diciamo del PM Creazzo dice, dov'è la credibilità di un magistrato che è riconosciuto colpevole di molestia sessuale, sottinteso. E quindi gira il concetto che il suo PM è un molestatore, che è comunque un pescare fuori dall'inchiesta per screditare la persona. Sul PM Anastasi, accusato da un carabiniere di aver inquinato delle prove del caso David Rossi, dice, si farebbe giudicare da un procuratore che fa questa roba, era a porta a porta e diceva, questo procuratore è stato giudicato da un ufficiale dei carabinieri di Siena come uno che entra sulla scena del crimine, tocca il mouse, apre il computer, i cestini sono scaricati. Questo si chiama inquinamento della scena. Ma lei si farebbe giudicare da un procuratore che fa questa roba? Perché in fondo, se lo fa, probabilmente l'opinione pubblica è pronta a ascoltare una critica del genere. Tu cosa hai pensato? Non credo, infatti sta al 2% o sotto il 2%, quindi non mi pare che ci sia un afflato dell'opinione pubblica nei confronti di questo signore. È il metodo Berlusconi, che invece di dire sono innocente e di portare tutti gli elementi a suffragio della sua difesa, dice il PM è un porco, il PM è un mascalzone. Come se tra l'altro quello che fa il PM spostasse quello che è accusato di avere fatto lui insieme alla sua famiglia. È uno strano modo di difendersi. Io quando mi accusano di qualche reato dico che non è vero, non dico che il pubblico ministero è un mascalzone. Io non sono un politico, mentre lui è un politico e avrebbe il dovere di rispettare le altre istituzioni, essendo lui un'istituzione molto superiore al dovere che ho io. Deve ringraziare di avere l'immunità parlamentare, perché altrimenti non so chi potrà salvarlo da condanne per diffamazione e da risarcimento i danni, perché il Procuratore Creazzo non è mai stato riconosciuto colpevole di nessuna molestia sessuale, perché non c'è mai stato un processo, perché la presunta vittima non lo ha mai denunciato, ha tirato fuori quella presunta molestia anni dopo per chiedere a Palamara la garanzia che Creazzo non venisse promosso, tant'è che anche la presunta vittima è sotto procedimento disciplinare davanti al CSM, perché se hai subito veramente una molestia vai subito in procura e la denunci, non è che te la tieni per poi fare una telefonata, quindi non esiste nessuna sentenza di nessun tribunale, nemmeno provvisoria, che dica che il Procuratore Creazzo ha fatto quella molestia. Per quanto riguarda l'altro PM, cioè Nastasi, non c'è nemmeno un'indagine che dica che ha inquinato le prove del caso Davide Rossi, c'è un carabiniere che nove anni dopo dice delle cose che non sono mai state confermate né verificate da nessuno e che al momento sono la sua parola contro quella del pubblico Ministero, non sono una sentenza definitiva, non c'è nemmeno un'indagine, una richiesta di rinvio a giudizio, quindi questo è un modo che può permettersi solo un politico, perché se io o Senaldi osassimo dire un centesimo di quello che ha detto Renzi di quei PM ci avrebbero già impacchettati. Un altro segnale, il fatto che quando Berlusconi invece di difendersi dentro i processi si difendeva dai processi denunciando i suoi magistrati c'era una levata di scudi generale, mentre oggi che Renzi, che è un Berlusconi che non ce l'ha fatta, fa la stessa cosa denunciando i suoi pubblici ministeri, il PD sta zitto, perché? Perché già sta trescando per riportarselo dentro nel famoso campo largo dove addirittura pare che voglia includere persino Berlusconi e quindi hanno messo la sordina anche agli scandali di Berlusconi, questo è il segnale inquietante. Questo non solo è il segnale inquietante, ma è la dimostrazione che le accuse giudiziarie a Berlusconi erano per lo più strumentali, l'unica condanna che ha subito Berlusconi noi sappiamo che non esiste in diritto, perché adesso è impossibile laurearsi in legge in Italia senza sapere che il diritto penale non è retroattivo. In Italia lo sanno tutti al Medioevo che tu potevi essere condannato. No, ti devono condannare per dei comportamenti che costituivano reati nel momento in cui li agivi, ma non per quelli che farai domani. No, ti devono condannare per dei reati che erano tali quando tu li agivi. Infatti la frode fiscale esiste dal Medioevo circa? No, l'applicazione della Severino è retroattiva e quindi è tra niente con la condanna. No, la Severino era però sulla sua possibilità, perché lui è stato sospeso per questo, lui è decaduto per questo. No, quello è il motivo per cui era decaduto, perdonatemi. Non l'aveva commesso perché è una responsabilità oggettiva, tutti quelli che avevano la responsabilità legale dell'azienda sono stati assolti e lui che non aveva la responsabilità legale è stato condannato, quindi anche questo è stata una trovata giuridica più unica che era. Quindi la Cassazione non vale, c'è un quarto grado di giudizio che è la Corte Senata. Insomma, quella è stata una sentenza piuttosto discussa. Allora, la responsabilità oggettiva o meno è stata appurata dal Tribunale. Questo è ciò in cui crediamo, questo è ciò che siamo. Grazie a tutti.